Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra, è evidente che la gente poco seguia quando parla di sinistra a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra a sinistra, 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 basta! 120esima puntata di Carta Canta, oggi parliamo della Consip del Comune di Teramo. Che cos'è la Consip? Con l'entrata in vigore del decreto sulla spending review cambiano le funzioni della Consip, concessionari e servizi informatici pubblici, la centrale acquisti per la pubblica amministrazione. Le nuove regole stabiliscono che anche gli enti locali, regioni, province e comuni dovranno rispettare i prezzi stabiliti della società per l'acquisto di beni e servizi, come l'energia elettrica, il CAS, il carburante per le auto, attenzione, il riscaldamento e i contratti telefonici. Il Comune di Teramo dal 2005 si serve della società Sofid per il carburante, questo perché? Perché firmò con una deliberazione di giunta un accordo, benissimo. Ora però c'è la Consip, bisogna rispettare la Consip, si è fatta una gara e la società vincitrice è la Total Erg. Si legge da una determina del terzo settore, del 12-3-2015. Visto che sul mercato elettronico Consip è disponibile una convenzione Fuel Card 5, l'8-3, Abruzzo, con la società Total Erg, per la fornitura di carburanti e per autovetture, ma che la ditta aggiudicataria, attenzione, ha la possibilità di utilizzare un solo distributore in convenzione Total nel territorio del Comune di Teramo, quindi inferiori al minimo due punti vendita previsti per garantire il regolare svolgimento dei servizi e per l'utilizzo dei mezzi anche nei casi di emergenza. Quindi appare opportuno ricorrere alla procedura per l'affidamento in economia prevista dal Codice dei Contratti, intendo perseguire le migliori condizioni economiche e tecniche. Perfetto, che succede? Succede che la Total Erg è quella che offre le migliori condizioni, secondo quello che riguarda la Consip, quindi secondo la legge dello Stato, ma il Comune di Teramo ritiene che siccome ha un solo punto di distribuzione, il Comune di Teramo sia poco sufficiente per poter garantire in stato di emergenza il carburante a tutti i mezzi. Quindi che fa? Attende? Sì, attende che cosa? Attende di una coincidenza, una mail che arriva subito dopo, perché l'8 aprile c'è stata questa sorta di aggiudicazione, il 15 aprile che scrive? Scrive la vecchia Sofid dell'ENI, scrive dimostrando e dando delle condizioni migliori. Vista la convenzione con la società Sofid-ENI, SPA, che ha inviato un'email in data 15.04.2014, voi pensate alla coincidenza, è incredibile, vero? Con la quale propone nuove condizioni economiche delle tessere multicard, eccetera, 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 e ovviamente si determina di affidare alla Sofid, per conto dell'ENI, eccetera, eccetera, la fornitura per l'anno 2015 di carburante per l'autotrazione ai mezzi comunali, mediante i rifornimenti. Si impegna una cifra intorno ai 70.000 euro annui. In fondo, Teramo ha rispettato la Consip. Fatevi anche voi i Consip vostri. Carta canta. Grazie.